I maestri della legge e i farisei portarono davanti a Gesù una donna sorpresa in adulterio e strattonandola la misero in mezzo al gruppo. Maestro, questa donna è stata sorpresa mentre tradiva suo marito. La legge di Mosè ci ordina di ucciderla a colpi di pietra. Tu che cosa ne dici? Volevano dei pretesti per accusarlo, ma Gesù guardava in terra e scriveva col dito nella sabbia. Un tribunale ben strano. Il giudice scrive nella sabbia e non rimarrà niente. Basterà il vento della sera e tutto sarà cancellato. Niente dossiero o voluminosi codici. Gesù non sa che cosa siano. Siccome insistevano, alzò la testa e disse, chi tra di voi è senza peccati scagli per primo una pietra contro di lei e riprese a scarabocchiare nella sabbia. Ben presto la piazza fu vuota. La donna rimase sola, in piedi. Gesù si alzò. Un semplice sguardo. Una semplice parola. Nessuno ti ha condannata. Nessuno, signore. Neppure io ti condanno. Va, ma ad ora in poi non peccare più. Come il vento della sera che cancella tutto. Grazie. 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 Grazie.